ciao a tutti e bentornati sul canale di filo e stitch oggi nuovo video decorazione agenda questo è il pezzo di agenda che abbiamo decorato la scorsa settimana e questa settimana andremo a fare decorazione dall 8 al 14 mettiamoci subito al lavoro allora innanzitutto ho deciso di utilizzare questi due washi per la settimana che va dall 8 al 14 questo rosa con una scritta hello con i cuoricini così non so se si riesce a vedere bene e poi lo slim per dividere i giorni con questo rosa sempre con i cuoricini ok eccoci qua dopo aver messo gli washi andiamo a mettere i numeri dei giorni e come datario giornaliero metterò invece questi stickers sunday ok poi come decorazione volevo mettere innanzitutto sempre sul lunedì la mia agenda che così abbiamo il video come banner metterei questo banner rosa che mi piace molto ok e la scritta la facciamo rossa e qui mettiamo già la scritta san valentino poi come decorazione volevo mettere questa girl che è una girl che fece mia sorella con un suo kit e mi piace moltissimo e poi qualche stickers sempre presi dal suo kit che era proprio un kit dedicato a san valentino quindi lo decoriamo in questa maniera questa settimana tutta tutta così sempre questa bellissima fashion girl la mettiamo qua questo spaglio di scarpe da urlo ne mettiamo qui e questa rosa stupenda la voglio mettere qua bell'anellino e l'ultimo paio di scarpe lo metterei qua ed ecco qua la mia settimana che va dall'8 al 13 di febbraio lo allarghiamo un pochino in modo che così lo potete vedere anche voi io direi che basta diciamo che l'abbiamo riempita abbastanza il lunedì Alessandro c'ha chitarra però mi sa che l'otto no però vabbè poi vedo un attimino adesso vedo un attimino e niente diciamo questa è la mia decorazione agenda la vogliamo la inseriamo in agenda già che ci siamo così allora siamo a febbraio eccola qua ora questa era la prima settimana di febbraio adesso inseriamo la seconda e voilà una e una due ecco qua io spero che il video vi sia piaciuto mettetemi tanti pollici su se vi è piaciuto ci vediamo al prossimo video per quanto riguarda la decorazione agenda vi ricordo di iscrivervi sul canale di filo esticio se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella e di seguirmi sui social su facebook e su instagram io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao